Vai tra loro. Tutte e due volte? Sì. Eccoci con Antonio Antanucci durante questo primo chieda campus qui allo Stato di Cinillo. Allora, mister, mi sembra che la risposta dell'iscrizione è stata buona, anche se come prima volta giustamente c'era un attimo di tentanamento da parte della città, però credo che comunque stiamo vedendo una serie di iscrizioni. Com'è il quadro dei ragazzi iscritti a questo primo campus, mister? Inizialmente in effetti eravamo un pochino delusi perché pensavamo che le iscrizioni sarebbero state di più. Poi alla prima delusione abbiamo visto che giornalmente invece il numero comincia a crescere. Perché la delusione? La delusione perché fa come una volta che noi facciamo un campus non con allenatori giovani che non hanno avuto esperienza, ma grazie all'amicizia con Melchionna che mi ha coinvolto e anche al fatto che ho portato la famiglia a fare le vacanze qui, non nascondiamo, quindi ho avuto questa opportunità di mettere la mia esperienza con tutti i giovani di Gaeta. Ma sinceramente noi volevamo che anche quelle delle altre squadre venissero, perché qui non è una questione di guadagno. Questo campus è veramente una cifra irrisoria, perché gli altri fanno sette allenamenti, 300 euro, 350 euro. Noi avevamo fatto 100 euro un mese, quindi mi sembra un pochino… Era fatto proprio per far vedere che c'era a Gaeta qualcosa di nuovo, sia per la prima squadra che ci sta pensando Felice Melchionna. E qui diciamo che avendomi coinvolto cerco di portare però quello che io facevo con i professionisti. Cioè non è che perché io facevo un lavoro con gli allievi nazionali della Regina o Catania Primavera o il Catania Radio Romania facevo un lavoro e qui ne faccio un altro. Quel tipo di lavoro è lo stesso, quindi io lo metto a disposizione, ho voluto mettere a disposizione sia la mia esperienza e professionalità, ma addirittura tutte le attrezzature che io ho ideato negli anni da quando mi sono a fare l'allenatore e che stavano per migliorare i calciatori. Quindi hai riportato anche una serie di attrezzatori nuove per questo primo campus. Quindi giustamente i ragazzi hanno a disposizione questo materiale portato da voi, no? Sì, 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 sono tutti attrezzatori che negli anni ho ideato perché volevo allenare in maniera ottimale i giovani e poi pian piano hanno preso piede in tutto il mondo adesso. Ecco, io lì ho messo a disposizione per il Gaita Summer Camp. Come puoi vedere se fai una panoramica, oggi ci sono soltanto le scalette che è una cosa in realtà che già viene utilizzata molto. E più le barriere ad altezza bambini in modo che possono fare una guida della palla mirata, anche palleggi sopra la barriera che sono ad altezza proprio loro. Ho visto che comunque anche i ragazzini piccolini, c'è anche Di Nardo che ti sta aiutando quest'anno. Sta facendo un gran lavoro, sinceramente io anche se ho diretto a altre scuole di calcio, però direttamente sui bambini di quell'età 6-8 anni, 8-9 anni non avevo esperienza. Grazie a lui siamo riusciti ad abbassare anche l'età dei ragazzi e addirittura oggi c'è anche una femminuccia. Ho capito, ma come ci siamo messi a livello di iscrizione? Sono abbastanza oppure numericamente? Sicuramente adesso siamo arrivati a 60, a 58 in realtà, quindi speriamo di portarne, di aumentarla ancora in queste settimane, anche perché magari le scuole poi chiudono, così coinvolgiamo anche un altro allenatore. Ho capito. A livello di risposta tecnica, chiaramente è ancora presto, però è chiaro che lei li sta guardando, questi ragazzi può vedere qualcosa di buono che possa venire fuori nei prossimi anni, diciamo così. Il mio compito sarà quello di togliere i difetti, quindi soprattutto di dargli equilibrio e coordinazione inizialmente, poi di dargli anche, e come vedete questi bambini è la prima volta che stanno utilizzando queste esercitazioni, ma se li guardi hanno già dopo un giorno, dopo un'ora di lavoro già riescono a essere coordinati, quindi è la logica del lavoro che paga, insomma. Io mi auguro di correggerli sia dal lato coordinativo, ma poi soprattutto sul lato della trasmissione di palla, della ricezione di palla. Ho capito. Allora niente, aspettiamo un'altra settimana per vedere le risposte di questo primo campus, sperando insomma che possano essere incrementate numericamente, anche perché comunque lavorare con più persone diventa più importante, anche perché viene fuori che alcuni giocatori, alcuni ragazzi possono essere valutati, quindi c'è più scelto, diciamo così, giusto? Sì, noi vogliamo che, inizialmente abbiamo visto che quelli delle altre società non venivano, invece adesso stanno venendo, il problema è che poi loro vanno dove hanno gli amichetti, dove si trovano meglio, non è detto che vanno per forza a Gaeta, cioè voglio dire, questa, diciamo, ostruzione indiretta che secondo me c'è stata nei nostri confronti, non c'era motivo di esistere, perché i ragazzi potevano sfruttare questa nostra esperienza, la nostra professionalità, la mia esperienza fatta con giocatori di livello alto, per poter migliorare anche i loro calciatori, quindi sto parlando di un bosco, di Gaeta, di fondi, poi naturalmente i ragazzi, i genitori li portano dove trovano più possibilità magari di trasferimento, più vicino a casa, quindi questo era invece un modo, un mese da utilizzare per il miglioramento, ecco sotto questo punto di vista non abbiamo avuto molta risposta, la maggioranza dei ragazzi, il 90% dei ragazzi sono ragazzi di Gaeta. Ho capito, d'accordo, allora appuntamento alla settimana prossima per fare il punto sulla seconda settimana di questo campus a Ricinieto, speriamo insomma che vi possa dire più cose a livello di iscrizioni e giustamente anche di crescita tecnica avanti questi ragazzi. Ok, grazie.